Bogacewski. Bogacewski, o padre Evlissi, è ancora in vita. Egli ha la fortuna di essere assistente del padre superiore in un monastero dei Frati Esseni, non lontano dalle rive del Mar Morto. Secondo alcune congetture, questo ordine fu fondato 1200 anni prima di Cristo. In questa confraternita, si dice, Cristo ricevette la sua prima iniziazione. Quando conobbi Bogacewski, padre Evlissi, egli era ancora molto giovane. Aveva appena terminato gli studi all'Accademia Russa di Teologia e, nell'attesa di essere ordinato prete, era cantore nella cattedrale della Fortezza di Kars. Dietro richiesta del mio primo maestro, padre Borsch, egli acconsentì sin dal suo arrivo a sostituire uno dei miei professori, Krestowski, anche egli giovane seminarista, che era stato assegnato qualche settimana prima a un posto di cappellano in Polonia e al quale Bogacewski era ora succeduto nella cattedrale. Bogacewski si rivelò uomo socievole e buono. Ben presto si guadagnò la simpatia di tutto il clero, perfino quella del candidato prete Ponomerenko, uomo rude e sboccato, che non andava d'accordo con nessuno. Questi e Bogacewski si intesero così bene che finirono per andare ad abitare nello stesso appartamento, vicino al giardino pubblico, dalla parte della caserma dei vigili del fuoco. Benché io fossi ancora molto giovane in quel periodo, presto tra Bogacewski e me si stabilì un legame quasi cameratesco. Andavo a casa sua nelle ore di libertà, ci andavo anche la sera dopo cena a lezione, e spesso mi fermavo a fare i compiti o ad ascoltare le sue conversazioni con Ponomerenko e con i numerosi amici che si recavano a far loro visita. A volte li aiutavo perfino nei piccoli lavori casalinghi. Tra i frequentatori abituali c'erano un ingegnere militare, un certo Vzevzlaski, compatriota di Bogacewski, e l'ufficiale di artiglieria Kuzmin, meccanico pirotecnico. Seduti intorno al samovar discutevamo di ogni genere di argomenti. Io seguivo sempre con molta attenzione le discussioni di Bogacewski e dei suoi amici perché, in quel periodo, leggevo una quantità di libri sugli argomenti più vari, in greco, in armeno e in russo, e mi interessavo a molte questioni. Naturalmente, data la mia giovane età, non mi univo mai alla conversazione. L'opinione di questi uomini era sacra per me, perché allora provavo il massimo rispetto per chi avesse fatto degli studi superiori. Sotto l'impulso di tutte queste conversazioni e discussioni avvenute fra coloro che, per ammazzare il tempo e riempire la vita monotona di quella remota e noiosa città di Kars, si riunivano a casa del mio maestro Bogacewski, si risvegliò il mio interesse per le questioni astratte. Siccome questo interesse ebbe una parte importante nella mia vita e segnò tutta la mia esistenza successiva, e gli avvenimenti che lo stimolarono si verificarono nell'epoca alla quale si riferiscono i miei ricordi su Bogacewski, mi soffermerò un po' più a lungo su questo argomento. Tale interesse cominciò un giorno durante una conversazione. Essi stavano parlando molto animatamente di spiritismo e di tavoli semoventi, questioni cui tutti a quei tempi si appassionavano. L'ingegnere militare affermava che quei fenomeni erano opera degli spiriti. Gli altri lo contestavano e spiegavano la cosa con altre forze della natura. Il magnetismo, la forza di attrazione, l'autosuggestione e così via. Ma nessuno negava l'evidenza del fatto. Come al solito, io seguivo attentamente la discussione. Ogni opinione mi interessava al massimo grado. Avevo già letto una quantità di libri su tutto e qualsiasi cosa, ma era la prima volta che sentivo parlare di questo argomento. Questa conversazione sullo spiritismo produsse in me un'impressione tanto più forte in quanto la mia sorella preferita era appena morta e io ne soffrivo ancora acutamente. Pensavo molto spesso a lei e il problema della morte, come pure quello della vita al di là della tomba, si imponeva a mio malgrado nella mia mente. Per questo tutto ciò che si diceva quella sera sembrava rispondere ai pensieri alle domande che inconsciamente erano germogliate in me ed esigevano una soluzione. Il risultato della loro discussione fu che decisero di fare un esperimento con un tavolo. Per questo correva un tavolo con tre piedi. Ce n'era sì uno in un angolo, ma l'ingegnere militare, specialista in materia, lo scartò perché era inchiodato e, come ci spiegò, il tavolo non doveva avere la minima traccia di ferro. Mi mandarono dal vicino, un fotografo, per chiedergli se ne avesse uno di quel genere. Lo aveva e io l'ho presi. Era sera. Dopo aver chiuso le porte e smorzato la luce, ci sedemmo tutti. Poi, dopo aver posato le mani sul tavolo in un determinato modo aspettammo. Dopo venti minuti, il nostro tavolo incominciò realmente a muoversi e alla domanda dell'ingegnere «Quanti anni ha la tale persona?» rispose battendo un certo numero di colpi con un piede. Come e perché battesse quei colpi, io non lo capivo. Non cercavo neppure di spiegarmelo. A tal punto ero sotto l'impressione di un immenso campo sconosciuto che mi si stava aprendo dinanzi. Ciò che sentii e ciò che vidi mi sconvolse così profondamente che, tornato a casa, ci pensai per tutta la notte e tutta la mattinata dell'indomani. Decisi perfino di parlarne al padre durante la lezione e gli raccontai la conversazione e l'esperimento del giorno precedente. «Tutto questo è assurdo», rispose il mio primo maestro. «Tu non devi pensare a queste cose né occupartene, ma studiare ciò che è indispensabile che tu sappia per condurre un'esistenza sopportabile». E non poté fare a meno di aggiungere «Su, piccola testa d'aglio». Era la sua espressione preferita. «Rifletti un momento. Se gli spiriti potessero veramente battere dei colpi servendosi del piede di un tavolo, questo significherebbe che essi posseggono una certa forza fisica. E se così fosse, perché dovrebbero ricorrere a un mezzo così stupido e nello stesso tempo così complicato per comunicare con gli uomini? Potrebbero altrettanto bene trasmettere ciò che vogliono dire mediante un contatto, o con qualche altro mezzo». Anche se apprezzavo l'opinione del mio vecchio maestro, non potevo accettare senza critica la sua risposta categorica, tanto più che mi sembrava che il mio giovane professore e i suoi amici che uscivano dall'accademia ed altre scuole superiori potessero conoscere alcuni fatti meglio di quell'uomo anziano, i cui studi risalivano a un'epoca in cui la scienza era molto meno evoluta. Perciò, nonostante tutto il rispetto che provavo per il vecchio, conservai qualche dubbio circa il suo modo di considerare alcuni problemi che riguardavano argomenti elevati. Così, il quesito rimase per me senza risposta. Cercai di risolverlo con l'aiuto dei libri che mi stavano Bogacevsky, padre Borsche e altri. Ma i miei studi non mi permettevano di soffermarmi a lungo su un argomento che fosse loro estraneo. Finii dunque per dimenticare questa faccenda e smisi di pensarci. Il tempo passava. Lo studio con i miei differenti maestri e con Bogacevsky si faceva sempre più intenso. Non andavo più che rare volte nei giorni festivi a trovare mio zio ad alexandropol, dove avevo molti amici. Ci andavo anche per guadagnarmi un po' di denaro, perché ne avevo sempre bisogno, sia per le mie spese personali, vestiti, libri, eccetera, sia all'occorrenza per aiutare qualche membro della mia famiglia che si trovasse in difficoltà finanziarie. Se andavo a lavorare ad alexandropol era perché tutti laggiù mi conoscevano come maestro finito nell'arte di fare tutto. E ora l'uno, ora l'altro mi chiamavano per fabbricare o per riparare qualcosa. Per uno dovevo aggiustare una serratura, per un altro un orologio, per un terzo scolpire in pietra del paese una stufa di forma speciale, ricamare un cuscino destinato a un corredo o alla decorazione di un salotto. In breve avevo una vasta clientela. Trovavo sempre lavoro sufficiente, per quei tempi ben pagato. A Carsi, invece, frequentavo persone che con la mia giovane comprensione consideravo uomini di scienza o membri dell'alta società, e non volevo essere da loro considerato un artigiano, né lasciare loro sospettare che la mia famiglia vivesse in ristrettezze e che fossi costretto a guadagnarmi da vivere come un semplice operaio. Tutto questo, allora, feriva profondamente il mio amor proprio. Così, dunque, quell'anno, a Pasqua, andai come al solito ad Alexandropol, che distava un centinaio di chilometri da Cars, presso la famiglia di mio zio, al quale ero molto attaccato e di cui ero sempre stato il favorito. L'indomani del mio arrivo, durante la colazione, mia zia mi disse «ascoltami, vada bene che non ti succeda nulla». Rimasi sorpreso. Che cosa mi poteva succedere? E le chiesi che cosa intendesse dire. «Io ci credo sì e no», disse. «Ma poiché una cosa che mi era stata predetta di te è successa, ho paura che anche il resto debba succedere». E mi raccontò quanto segue. All'inizio dell'inverno, come ogni anno, Eunga Shock Mardiros, l'idiota, era passato da Alexandropol. Mia zia aveva avuto l'idea di chiamarlo e gli aveva chiesto di predire il mio avvenire. Egli le aveva annunciato molte cose che mi dovevano accadere. Lei riteneva che alcune si fossero già avverate e me ne indicò effettivamente alcune che erano avvenute nel frattempo. «Grazie a Dio», continuò, «ci sono ancora due cose che non ti sono successe». Egli aveva predetto che avresti avuto una piaga al fianco destro e che presto saresti rimasto vittima di un grave incidente dovuto a un'arma da fuoco. «Perciò stai molto attento dovunque si spari», concluse mia zia, asserendo di non credere a questo pazzo, ma che sarebbe stato meglio, nonostante tutto, essere molto prudente. Quanto a me, ero molto sorpreso delle sue parole perché, due mesi prima, avevo davvero sofferto di un foruncolo al fianco destro, che avevo dovuto curare per varie settimane andando quasi ogni giorno a farmi medicare all'ospedale militare. Ma non ne avevo parlato con nessuno, neanche con i miei genitori, e di conseguenza mia zia, che viveva lontano, non aveva potuto saperlo. Tuttavia non diedi nessuna importanza particolare a questo racconto perché non credevo minimamente a questi indovini, e presto dimenticai la predizione. Ad Aleksandropol avevo un amico di nome Fatinov. Questi avevo un compagno, un certo Gorbacun, figlio del comandante di un reggimento di Baku, dislocato nei soborghi greci della città. Una settimana circa dopo il racconto di mia zia, questo Fatinov venne a trovarmi e mi propose di accompagnarlo insieme con il suo amico a caccia di anatre selvatiche. Essi contavano di recarsi sul lago Alaget, situato su uno dei versanti della montagna dallo stesso nome. Acconsentii, pensando che era una buona occasione per riposare, perché da qualche tempo mi ero davvero molto stancato nello studio dei libri di patologia nervosa che mi appassionavano. D'altronde, sin dall'infanzia mi era sempre piaciuta la caccia. Non avevo che sei anni quando un giorno, senza chiedere il permesso, presi il fucile di mio padre e andai a caccia di passeri. Il primo colpo mi fece cadere. Questo non diminuì il mio ardore, anzi, non fece che accrescerlo. Ovviamente mi tolsero subito il fucile e lo appesero in modo che non potessi più arrivarci. Ma ben presto me ne fabbricai un altro con vecchie cartucce alle quali adattai i cilindri di cartone della mia piccola carabina. Con questo fucile, caricato a pallini di piombo, facevo centro altrettanto bene che con un vero fucile. Ebbe un tale successo presso i miei compagni che me ne ordinarono tutti dei simili, e così, oltre alla fama di abile armaiolo, mi feci pure un bel gruzzoletto. Così, dunque, due giorni più tardi, Fatinov e il suo amico vennero a cercarmi e partimmo per la caccia. Dovevamo percorrere a piedi una ventina di verste. Ci mettemmo in cammino all'alba per arrivare sul posto la sera stessa, senza doverci affrettare, e per potere, l'indomani di buon'ora, metterci in agguato per il primo passo delle anatre. Eravamo in quattro, perché un soldato, l'ordinanza del comandante Gorbacun, si era unito a noi. Eravamo tutti armati, e Gorbacun aveva perfino un fucile dell'esercito. Arrivati vicino al lago, accendemmo un fuoco, e dopo aver cenato, costruimmo una capanna e andammo a dormire. Alzatici prima dell'alba, scegliemmo ognuno il nostro settore in riva al lago, e aspettammo. Sulla mia sinistra stava Gorbacun. Egli sparò sulla prima anatra, mentre questa volava ancora molto bassa, e la pallottola mi prese in pieno nella gamba. Per fortuna attraversò la carne senza toccare l'osso. Naturalmente la caccia andò a monte. La mia gamba sanguinava molto. Cominciava a tolermi, e i miei compagni dovettero portarmi per tutta la strada su una barella fatta con i nostri fucili, perché non ero in grado di camminare. A casa la piaga si rimarginò rapidamente, perché erano stati colpiti soltanto i muscoli. Ma zoppicai per molto tempo. La coincidenza di questo incidente con la predizione dell'oracolo locale mi diede molto da pensare, e durante un altro soggiorno presso mio zio, quando sentii dire che Eung Ashok Mardiros era di nuovo nei paraggi, pregai mia zia di invitarlo. E lei lo fece. L'indovino era un essere magro, alto, dagli occhi spenti. I suoi movimenti nervosi e disordinati erano quelli di un idiota. A volte era preso da tremiti e non la smetteva di fumare. Senza dubbio era un uomo molto malato. La seduta si svolgeva così. Postosi tra due candele accese, egli si metteva il pollice davanti agli occhi e ne fissava l'unghia fino a cadere in una specie di sonnolenza. Allora cominciava a dire ciò che vedeva nell'unghia. Parlava prima dei vestiti che la persona indossava, poi annunciava ciò che le sarebbe successo in avvenire. Se prediceva l'avvenire di un assente, egli chiedeva prima il suo nome, pregava che gli si descrivesse il suo viso in modo dettagliato, poi che gli si indicasse la direzione approssimativa del luogo dove viveva e, se possibile, la sua età. Anche questa volta egli lesse nel mio avvenire. Un giorno racconterò in che modo le sue predizioni si avverarono. Quell'estate ad Alexandropol fui testimone di un altro avvenimento che non riuscì assolutamente a spiegarmi. Di fronte alla casa di mio zio c'era un terreno incolto in mezzo al quale si drizzava un boschetto di pioppi. Quel posto mi piaceva e spesso andavo a sedermici con un libro o un lavoro qualsiasi. Si vedevano sempre giocare dei ragazzini venuti da tutti i quartieri vicini. formavano un'orda eteroclita e variopinta. C'erano armeni, greci, curdi, tartari che facevano un baccano incredibile, ma questo non mi impediva mai di lavorare. Quel giorno ero seduto sotto i pioppi con un lavoro ordinatomi da un vicino. Si trattava di disegnare su uno stemma che egli voleva appendere l'indomani sopra la porta di casa in occasione del matrimonio della nipote le iniziali intrecciate dei giovani sposi. Oltre alle iniziali, sullo stemma, dovevo scrivere anche il giorno e l'anno. Certe forti impressioni si incidono profondamente nella memoria. Ricordo ancora come mi lambiccavo il cervello per disporre nel miglior modo possibile le cifre dell'anno 1888. Ero assorto nel mio lavoro quando improvvisamente risuonò un grido spaventoso. Saltai in piedi convinto che fosse successo un incidente a uno dei bambini. Corsi e vidi la scena seguente. In mezzo a un cerchio tracciato in terra, un bambino si inghiozzava facendo strani movimenti mentre gli altri, che stavano a una certa distanza, ridevano e si facevano beffe di lui. Non ci capivo nulla. Chiesi che cosa stesse succedendo. Mi dissero che il bambino apparteneva alla setta degli Yazidi che intorno a lui era stato tracciato un cerchio e che egli non avrebbe potuto uscirne finché non lo si fosse cancellato. Il bambino stava veramente tentando con tutte le sue forze di uscire dal cerchio incantato, ma aveva un bel dibattersi. Non ci riusciva. Corsi verso di lui e cancellai rapidamente una parte del cerchio. Subito il bambino balzò via e fuggì a gambe levate. Ero così sbalordito che rimasi inchiodato sul posto nella stessa posa come stregato finché finalmente non mi tornò la mia normale capacità di pensare. Avevo già sentito parlare degli Yazidi, ma il mio pensiero non vi si era mai soffermato. L'avvenimento che si era appena svolto sotto i miei occhi e che mi aveva tanto stupito mi costringeva adesso a riflettervi seriamente. Mi guardai intorno e vidi che i ragazzi avevano ripreso i loro giochi. Tornai al mio posto in preda ai miei pensieri e mi rimisi a disegnare le iniziali. Il lavoro non mi riusciva più per niente, eppure bisognava terminarlo ad ogni costo. Gli Yazidi formano una setta che vive in Transcaucasia principalmente nelle vicinanze dell'Ararat. A volte vengono chiamati adoratori del diavolo. Molti anni dopo l'incidente di cui ero stato testimone, potei verificare questa specie di fenomeno e constatare che in effetti, se si traccia un cerchio intorno a uno Yazida, egli non può uscirne di sua propria volontà. All'interno egli può muoversi liberamente. Più il cerchio è grande, più grande è la superficie in cui gli è possibile spostarsi, ma quanto a superare la linea, questo non lo può fare. Una forza strana, immensamente superiore alla sua forza normale, lo trattiene prigioniero. Io stesso, che sono forte, non potevo far uscire dal cerchio una debole donna. Mi ci voleva l'aiuto di un altro uomo robusto come me. Se si costringe uno Yazide a superare questa linea, egli cade subito nello stato chiamato catalessi, stato che cessa nell'istante stesso in cui egli viene riportato all'interno del cerchio. Una volta caduto in catalessi, uno Yazide che sia stato tirato fuori dal cerchio non torna alla normalità che dopo 13 o 21 ore. Non esiste un altro mezzo per farlo tornare allo stato normale? Comunque sia, né io né i miei compagni ci riuscivamo. Eppure eravamo molto pratici di tutti i metodi conosciuti dalla scienza ipnotica contemporanea per far uscire un uomo dallo stato di catalessi. Soltanto i loro preti potevano farlo, mediante brevi formule incantatorie. La sera stessa, dopo aver terminato le iniziali alla meno peggio e consegnato lo stemma al mio cliente, mi recai nel quartiere russo dove abitavano la maggior parte dei miei amici conoscenti, con la speranza che potessero aiutarmi a decifrare questo strano fenomeno. In quel quartiere russo della città di Alexandropol viveva tutta l'intelligenza locale. Va detto che sin dall'età di otto anni ad Alexandropol, come a Kars, le circostanze mi avevano portato a frequentare dei compagni molto più vecchi di me, appartenenti a famiglie la cui situazione sociale era considerata superiore a quella dei miei genitori. Nel sobborgo greco di Alexandropol, dove in un primo tempo era vissuta la mia famiglia, non avevo nessun compagno. Tutti i miei amici vivevano dall'altra parte della città, nel quartiere russo. Erano figli di ufficiali, di funzionari e di ecclesiastici. Andavo spesso a trovarli, e una volta presentato alle loro famiglie, ebbi libero accesso in quasi tutte le case di quel quartiere. Mi ricordo che il primo amico al quale parlai di quel fenomeno che mi aveva tanto stupito fu un certo Ananiev, un buon compagno, anch'egli molto più anziano di me. Non mi ascoltò neppure fino in fondo e dichiarò con sicumera «Questi ragazzi si sono semplicemente burlati della tua stupidità, si sono fatti beffe di te e basta, ma guarda piuttosto questa meraviglia». Corse nella sua stanza e ne tornò subito, infilandosi mentre camminava la casacca della sua nuova uniforme. Era stato appena assunto come impiegato alle poste e telegrafi. Poi mi invitò ad accompagnarlo ai giardini pubblici. Rifiutai, adducendo come pretesto la mancanza di tempo, e lo lasciai ben presto andare da Pavlov, che abitava nella stessa strada. Era un bravo ragazzo, ma un grande ubriacone. Era impiegato al tesoro. A casa sua trovai padre Maxim, diacono della Chiesa della Fortezza, un funzionario alle polveriere. Artemin, il capitano Terentiev, il maestro di scuola Stolmach, e altri due che conoscevo poco. Stavano bevendo vodka e non appena entrai mi fecero sedere e mi invitarono a bere un bicchiere. Va detto che quell'anno avevo già incominciato a bere, non molto per la verità, e che non rifiutavo mai un bicchiere quando mi veniva offerto. Avevo cominciato a Kars, nelle circostanze seguenti. Una mattina, che crollavo per la stanchezza perché avevo studiato tutta la notte, ero sul punto di andare a letto quando un soldato venne a cercarmi per andare alla cattedrale. Non ricordo più in onore di che cosa quel giorno si dovesse tenere un servizio religioso in uno dei forti. All'ultimo momento era stato deciso di celebrarlo con dei cori e si erano mandate staffette e ordinanze per tutta la città a cercare dei cantori. Siccome non avevo dormito per tutta la notte, la ripida salita per giungere fino al forte e il servizio stesso mi stancarono a tal punto che mi reggevo a malapene in piedi. Una volta terminata la funzione, nel forte, era stato servito un pranzo per gli invitati e un tavolo era stato riservato per i coristi. Il maestro di cappella, che era un gran beone, vedendo quanto fossi debole, mi persuase a bere un bicchierino di vodka. Dopo aver bevuto mi senti realmente meglio e al secondo bicchiere tutta la mia debolezza era scomparsa. Da allora, molto spesso, quando ero stanco o nervoso, bevevo un bicchierino o due, a volte perfino tre. Neanche quella sera rifiutai un bicchiere di vodka, ma nonostante la loro insistenza non ne presi altri. La piccola compagnia non era ancora ubriaca perché la serata era appena cominciata. Sapevo come procedevano le cose. Il primo a sbronzarsi era sempre il diacono. Quando era leggermente brillo, incominciava a intonare la preghiera liturgica per il riposo dell'anima dell'Augusto e venerato Alessandro I, ma vedendo che aveva ancora la sua aria tetra, non potei trattenermi dal parlargli di ciò che avevo visto quello stesso giorno. Tuttavia mi guardai bene dal sembrare serio come ero stato con Ananiev, e questa volta presi un tono scherzoso. Tutti mi ascoltarono con molta attenzione e con il massimo interesse. Quando ebbi terminato il mio racconto mi dissero la loro opinione. Il primo a parlare fu il capitano. Egli disse che avevo osservato di recente un caso simile. Alcuni soldati avevano tracciato un cerchio in terra intorno a un curdo. Questi, quasi piangendo, li aveva supplicati di cancellarlo e non era uscito finché un soldato, per ordine dello stesso capitano, non vi aveva fatto una breccia attraverso la quale il curdo era fuggito. Io penso, osservò il capitano, che abbiano fatto voto di non uscire mai da un cerchio chiuso e che se non ne escono non è perché non possono, ma perché non vogliono infrangere il loro giuramento. Il diacono allora disse, sono degli adoratori del diavolo e in circostanze normali il diavolo non li tocca perché sono sue creature. Ma siccome il diavolo stesso non è che un subalterno e le sue funzioni lo costringono a far pesare il suo gioco su tutti, egli ha limitato l'indipendenza degli yazidi per salvare le apparenze, in modo che gli altri non possano indovinare che sono i suoi servitori, esattamente come Philip. Philip era il gendarme del posto. Questa allegra banda, non avendo nessun altro a sua disposizione, lo mandava a prendere sigarette e bibite perché il servizio di polizia locale era buono tutt'al più a far ridere i polli. Per esempio, continuò il diacono, se do scandalo per strada, questo Philip è pur costretto a portarmi al commissariato, ma semplicemente pro forma, soltanto perché gli altri non trovino nulla da ridire. Non appena abbiamo voltato l'angolo della strada, egli mi lascia andare, non manca mai di dirmi, non dimentichi la piccola mancia, vostro onore. Ebbene, il maledetto fa la stessa cosa con le sue creature, gli yazidi. Ignoro se stesse inventando questa storia sul momento o se fosse vera. L'impiegato del tesoro disse che non aveva mai sentito parlare di tutto ciò. Secondo lui non poteva esistere nulla di simile, ed egli deplorava che persone intelligenti come noi potessero credere a simili prodigi, e per di più stessero a scervellarvisi sopra. Il maestro di scuola Stolmach rispose che, invece, egli credeva nella realtà dei fenomeni soprannaturali, e che, anche se la scienza positiva non poteva ancora decifrarli tutti, era perfettamente convinto che, con i rapidi progressi della civiltà contemporanea, la scienza avrebbe presto provato che tutte le stranezze del mondo metafisico potevano interamente spiegarsi con delle cause fisiche. Quanto al fatto del quale stiamo ora parlando, continuò, penso che si tratti di uno di quei fenomeni magnetici sui quali i luminari della scienza stanno attualmente lavorando a Nancy. Voleva aggiungere altro, ma Pavlov lo interruppe esclamando che il diavolo si porti via tutti gli adoratori del diavolo, che si dia a tutti loro una mezza bottiglia di vodka e non potranno più essere trattenuti da nessun cerchio. Beviamo piuttosto alla salute di Isakov. Isakov era il proprietario della locale distilleria. Queste parole non calmavano i miei pensieri, anzi, dopo aver lasciato Pavlov ci pensavo ancora di più. Nello stesso tempo mi stavano venendo seri dubbi sulle persone che fino a quel momento avevo considerato istruite. L'indomani mattina incontrai per caso il primo ufficiale medico della 39esima divisione, il dottor Ivanov. Egli stava visitando un mio vicino armeno dal quale ero stato chiamato per fargli da interprete. Ivanov godeva di una grande celebrità in città. Egli aveva una vasta clientela ed io lo conoscevo molto bene perché veniva spesso da mio zio. Dopo la visita gli chiesi «Vostra eccellenza». Egli aveva il grado di generale. Vuole avere la bontà di spiegarmi perché uno yaside non può uscire da un cerchio. «Ah, intende parlare degli adoratori del diavolo?» disse. «È semplicemente isteria». «Isteria?» chiesi. «Sì, isteria». E si mise a snocciolarmi una storia interminabile. Ma di tutto ciò che mi disse capii soltanto che l'isteria era l'isteria. E questo lo sapevo già, per la buona ragione che nella biblioteca dell'ospedale militare di Kars non esisteva un solo libro di patologia nervosa o di psicologia che non avessi letto. Anzi, avevo letto tutto con molta attenzione, fermandomi quasi a ogni rigo. Tale era il mio desiderio di trovare in questi rami della scienza una spiegazione per i tavoli che si muovono. Perciò io capivo già perfettamente per conto mio che l'isteria era l'isteria, ma desideravo saperne di più. Più capivo quanto fosse difficile trovare una risposta e più erroroso dalla curiosità. Per qualche giorno non fui più io. Non volevo fare nulla. Pensavo soltanto a una cosa. Dove sta la verità? In ciò che è scritto nei libri e in ciò che mi insegnano i miei maestri? Oppure nei fatti che mi si pongono di fronte? Ben presto sopravvenne un nuovo avvenimento che mi sconcertò completamente. Cinque o sei giorni dopo la storia dello Yaside andai di buon'ora a lavarmi alla fontana. Laggiù si usava lavarsi ogni mattina con acqua sorgiva e vidi all'angolo della strada un gruppo di donne che stavano parlando con animazione. Mi avvicinai e venne a sapere questo. Quella notte, nel quartiere Tartaro, era apparso un Gornak. Dal popolo viene così chiamato uno spirito maligno che si introduce nel corpo di un uomo appena morto e appare con il suo aspetto per fare ogni genere di brutti tiri ai vivi e soprattutto agli ex nemici del defunto. Uno di questi spiriti, dunque, era apparso nel corpo di un Tartaro sepolto il giorno prima, il figlio di Mariani Bacci. Avevo saputo della morte e del funerale di quest'uomo perché la sua casa era vicina a quella che era stata di mio padre e dove eravamo vissuti tutti prima della nostra partenza per Cars, C'ero andato il giorno prima per incassare gli affitti. Approfittando dell'occasione mi ero fermato in casa di alcuni vicini tartari e avevo visto portare via il morto. Lo conoscevo molto bene perché ci veniva spesso a trovare. Era un giovane che era stato fatto da poco guardia municipale. Alcuni giorni prima, durante una giguitovca, egli era caduto da cavallo e si diceva che avesse avuto gli intestini legati. Benché un medico militare di nome Kulchevski gli avesse fatto ingoiare un intero bicchiere di mercurio per rimetterli in sesto, il povero diavolo era morto e, secondo l'usanza tartara, era stato subito sepolto. Fu allora, sembra, che lo spirito maligno si introdusse nel suo corpo e cercò di riportarlo a casa. Ma qualcuno se ne era accorto per caso, aveva dato l'allarme e suonato la campana a martello e i bravi vicini, per non permettere allo spirito di fare accadere grandi sciagure, avevano immediatamente sgozzato il tartaro e lo avevano riportato al cimitero. Laggiù i seguaci della religione cristiana credono perfino che questi spiriti si introducano soltanto nei tartari perché questi hanno per consuetudine, invece di rinchiudere subito la tomba, di buttarvi un po' di terra e spesso di deporvi perfino del cibo. Tirare fuori il corpo di un cristiano profondamente seppellito nella terra è cosa difficile per gli spiriti, per questo essi preferiscono i tartari. Questo incidente mi lasciò di sasso. Come spiegarmelo? Che cosa ne sapevo io? Mi guardo intorno. All'angolo della strada ecco mio zio, il venerabile Georgi Merkurov, e suo figlio liceale di seconda che parlano di questo fatto con un funzionario di polizia da tutti considerato uomo degno di stima. Sono tutti vissuti tanto più a lungo di me, sanno tante cose alle quali io non ho neppure mai pensato. Si vede forse sul loro viso indignazione, tristezza o stupore? No, si direbbe addirittura che si stiano rallegrando perché una volta tanto si è riusciti a punire questo spirito e a sventare i suoi intrighi. Mi tuffai di nuovo nei libri con la speranza di soddisfare finalmente il tarlo che mi rodeva. Bogacevsky mi aiutò molto. Sfortunatamente dovette partire presto perché due anni dopo il suo arrivo a Kars ebbe la nomina a cappellano in una città trans-caspiana. Finché era stato mio maestro a Kars, egli aveva sottoposto i nostri rapporti a una regola particolare. Benché ancora non fosse prete, mi confessava ogni settimana. Quando partì mi ordinò di scrivere la mia confessione settimanale e di spedirgliela promettendomi di rispondere di tanto in tanto. Decidemmo che avrebbe mandato le sue lettere presso mio zio, che me le avrebbe date o me le avrebbe fatte per venire. Ma un anno dopo essersi stabilito nella regione trans-caspiana, Bogacevsky abbandonò il clero secolare per farsi monaco. Se si deve credere ad alcune voci, egli era stato indotto a questa decisione dal comportamento della sua giovane moglie, che aveva avuto una storia d'amore con un ufficiale. Bogacevsky la cacciò via e non volle più rimanere nella città né continuare a fare il cappellano militare. Poco tempo dopo la sua partenza, anch'io lasciai Kars per Tiflis. Durante quel periodo ricevetti da mio zio due lettere di Bogacevsky, poi stetti vari anni senza avere sue notizie. Molto più tardi lo incontrai per puro caso nella città di Samarra mentre usciva dalla casa del vescovo. Egli indossava l'abito dei monaci di un celebre monastero. Non mi riconobbe subito, tanto ero cresciuto e maturato, ma quando gli dissi il mio nome si mostrò molto felice di rivedermi e per qualche giorno avemmo frequenti discussioni, fino al momento in cui tutti e due lasciamo Samarra. Dopo questo incontro non dovevo mai più rivederlo. Seppi più tardi che non aveva voluto rimanere nel suo monastero in Russia, ma era partito per la Turchia, poi per il Monte Athos, dove tuttavia non era rimasto a lungo. Aveva allora rinunciato alla vita monastica e si era trasferito a Gerusalemme. Lì Bogacevsky era diventato amico di un mercante che vendeva rosari vicino al Tempio del Signore. Questo mercante era un monaco dell'Ordine degli Esseni. Dopo aver preparato a lungo Bogacevsky lo fece entrare nella sua confraternita. Grazie alla sua vita esemplare, questi venne nominato economo e dopo qualche anno superiore di uno dei monasteri dell'Ordine, in Egitto. Infine, dopo la morte di uno degli assistenti del superiore del monastero principale, Bogacevsky venne chiamato a sostituirlo. Venne a sapere molte cose sulla vita straordinaria che aveva condotto durante quel periodo grazie ai racconti di un mio amico, un derviscio turco che lo vedeva spesso e che io incontrai a Bruce. Nel frattempo mio zio mi aveva spedito un'altra lettera di Bogacevsky. Questa lettera, oltre a qualche parola di benedizione, conteneva una sua piccola fotografia vestito da monaco greco e varie vedute di luoghi santi dei dintorni di Gerusalemme. Quando si trovava ancora a Cars in attesa di essere ordinato prete, Bogacevsky mi aveva esposto a una concezione molto originale della morale. Egli mi insegnò che nel mondo esistevano due morali. L'una obiettiva, stabilita dalla vita da migliaia di anni, e l'altra soggettiva, particolare tanto a singoli individui quanto a intere nazioni, imperi, famiglie, categorie sociali, ecc. La morale oggettiva, mi disse un giorno, si fonda o sulla vita o su alcuni comportamenti che Dio stesso ci ha dati tramite la voce dei suoi profeti. Nell'uomo essa diventa poco a poco il principio costitutivo di ciò che è chiamato coscienza, e questa coscienza, a sua volta, sostiene la morale obiettiva. La morale oggettiva non cambia mai, può soltanto acquisire maggiore ampiezza col tempo. Quanto alla morale soggettiva, invenzione umana, essa è una concezione relativa, differente per ogni uomo, differente in ogni luogo, e fondata sulla comprensione particolare del bene e del male che prevale in una data epoca. Per esempio, qui, in Transcaucasia, se una donna non si copre il viso, se parla con gli invitati, tutti la considerano una donna immorale, perversa, priva di educazione. In Russia, invece, se a una donna venisse in mente di coprirsi il viso, di non accogliere i suoi invitati e di non intrattenersi con loro, tutti la considererebbero maleducata, volgare, poco cortese e così via. Altro esempio. Qui a Cars, se qualcuno non va al bagno turco una volta a settimana o perlomeno ogni 15 giorni, chi gli sta d'intorno lo detesterà, proverà disgusto per lui e troverà perfino che puzza, anche se forse non è vero. Ma a Pietroburgo oggi succede il contrario. Se qualcuno parla di andare al bagno turco, verrà guardato come una persona priva di educazione, arretrata, zotica, eccetera. E se per caso vuole andarci lo stesso, lo farà di nascosto, perché non gli si rimproveri la sua mancanza di buone maniere. Per farti capire meglio la relatività delle nozioni di morale e di onore, prenderò come esempio due avvenimenti che sono successi la settimana scorsa a Cars nell'ambiente degli ufficiali e che hanno avuto una certa risonanza. Il primo caso è il processo del tenente K, il secondo il suicidio del tenente Makarov. Il tenente K fu portato davanti al tribunale militare per avere schiaffeggiato il ciabattino Ivanov con tale violenza che questi perse l'occhio sinistro. Venne assolto dal tribunale perché l'inchiesta aveva provato che il ciabattino Ivanov infastidiva il tenente K e diffondeva voci offensive sul suo conto. Molto interessato da questa storia, decisi, senza tenere conto dei risultati dell'inchiesta, di andare io stesso a fare visita alla famiglia di quell'infelice e di interrogare i suoi amici per fare luce sulle vere ragioni del comportamento del tenente K. Venne a sapere che quest'ultimo aveva ordinato al ciabattino Ivanov un paio di stivali, poi un secondo paio, poi un terzo paio, promettendo di pagarli il venti del mese, quando avrebbe ricevuto lo stipendio. Siccome il tenente non aveva portato il denaro il giorno venti, Ivanov andò a chiedergli ciò che gli era dovuto. L'ufficiale glielo promise per l'indomani. L'indomani rimandò al giorno dopo. In breve, per molto tempo, egli nutri Ivanov di domani. E Ivanov continuava a ritornare perché il denaro che gli era dovuto rappresentava per lui una somma enorme. Era quasi tutto ciò che possedeva perché i risparmi che sua moglie, che faceva la lavandaia, aveva messo da parte per anni, soldo per soldo, erano stati spesi per comprare le forniture di cui egli aveva avuto bisogno per gli stivali dell'ufficiale. D'altronde, il ciabattino Ivanov insisteva a richiedere l'ammontare del suo conto perché egli aveva sei bambini piccoli da nutrire. L'insistenza di Ivanov finì per stancare l'ufficiale. Prima a questi gli fece rispondere dall'ordinanza che non era in casa. Poi lo cacciò via senza altre spiegazioni, arrivando a minacciare di farlo gettare in carcere. Infine, il tenente aveva ingiunto alla sua ordinanza di picchiarlo per bene se avesse osato tornare. Quando Ivanov si presentò, l'ordinanza, che era un uomo di cuore, invece di pestarlo di santa ragione come gli era stato ordinato, volle persuaderlo da amico a non importunare più sua eccellenza. Lo invitò dunque in cucina per parlargli. Mentre Ivanov si sedeva su uno sgabello, l'ordinanza si accinse a spennare un'oca per farla arrostire. A questo punto Ivanov non poté fare a meno di osservare. Ecco, questi signori si permettono ogni giorno delle oche arrosto, ma non pagano i loro debiti. E intanto i miei figli non si tolgono la fame. Ora, nello stesso istante, il tenente K, entrò per caso in cucina. Poiché aveva udito queste parole, egli fu preso da un furore tale che afferrò una grossa barbabietola che era sul tavolo e colpì Ivanov in pieno viso, così brutalmente che gli fece saltare via un occhio. Il secondo avvenimento è per così dire l'inverso del primo. Il tenente Makarov si è suicidato perché non poteva pagare il suo debito a un certo capitano Machfelov. Va detto che questo Machfelov, giocatore di carte inveterato, è dunque considerato un vero imbroglione. Non passa giorno senza che ripulisca qualcuno al gioco. Per tutti è evidente che bara. Qualche giorno fa, al circolo, il tenente Makarov fece una partita con alcuni ufficiali, fra cui si trovava anche Machfelov. Ed egli perse non soltanto tutto il suo denaro, ma anche una somma che prese a prestito da quel Machfelov promettendo di restituirgliela entro tre giorni. Siccome si trattava di una grossa somma, il tenente Makarov non poté procurarsele in tempo. E non essendo in grado di mantenere la sua parola, pensò che fosse meglio ammazzarsi piuttosto che macchiare il suo onore di ufficiale. Questi avvenimenti hanno tutti e due la stessa origine. Debiti. Ma uno degli ufficiali cava un occhio al proprio creditore, mentre per lo stesso motivo l'altro si uccide. Perché? Semplicemente perché nel suo ambiente Makarov sarebbe stato biasimato per non aver pagato il suo debito al baro Machfelov. Quanto al ciabattino Ivanov, anche se tutti i suoi figli fossero morti di fame, sarebbe stato nell'ordine delle cose. Dopotutto il codice d'onore di un ufficiale non include il dovere di pagare i propri debiti a un calzolaio. In genere, lo ripeto, se tali incidenti avvengono tra persone adulte, questo è perché durante l'infanzia, nell'età in cui l'uomo futuro è ancora in via di formazione, si è riempita loro la testa di convenzioni diverse, impedendo così alla natura di sviluppare progressivamente in loro la coscienza morale che i nostri antenati hanno impiegato migliaia di anni a costruire, lottando precisamente contro questa specie di convenzioni. Bogacevsky mi esortava spesso a non adottare nessuna delle convenzioni in uso nell'ambiente nel quale vivevo, e neanche quelle di nessun altro ambiente. Egli diceva «Sono le convenzioni di cui siamo imbottiti che costituiscono la morale soggettiva, ma una vita vera esige la morale oggettiva che può venire soltanto dalla coscienza». La coscienza è la stessa dovunque. Qui è come a Pietroburgo, come in America, nella Kamchatka e nelle isole Salomone. Oggi sei qui, ma domani puoi essere in America. Se hai una vera coscienza, e se ad essa adegui la tua vita, dovunque tu sia, tutto andrà bene. Sei ancora molto giovane. Non sei ancora neppure entrato nella vita. Pazienza, se di te si dice che sei maleducato. Poco importa che tu non sappia fare l'inchino, né parlare delle cose come si usa parlarne, purché nell'età adulta, quando comincerai realmente a vivere, tu abbia una vera coscienza, cioè la base stessa di una morale oggettiva. La morale soggettiva è una concezione relativa. Se sei imbevuto di concezioni relative, quando sarai grande, tu agirai e giudicherai gli altri sempre e dovunque, secondo i modi di vedere le nozioni convenzionali che avrai acquisite. Devi imparare non a conformarti a ciò che le persone che ti stanno intorno considerano buono o cattivo, ma ad agire nella vita secondo ciò che ti detta la tua coscienza. Una coscienza liberamente sviluppata si ne saprà sempre di più di tutti i libri e di tutti i maestri messi insieme. Ma finché la tua stessa coscienza non è ancora interamente formata, devi vivere secondo il comandamento del nostro amato Gesù Cristo. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Padre Evlissi, che ora è molto vecchio, è uno dei pochi uomini sulla terra che si è riuscito a vivere come lo desiderava per tutti noi il nostro divino maestro Gesù Cristo. Che le sue preghiere aiutino tutti coloro che vogliono diventare capaci di esistere secondo la verità.